Ciao grandissimi, benvenuti in questo nuovo mini video, oggi video molto breve e veloce soltanto per far vedere i miei tre portainnesti di agrumi più da vicino avevo già fatto un video abbastanza completo però dove vi spiegavo proprio tutte le varie resistenze, tutto quello che hanno da offrire questi portainnesti ve lo lascio magari qui in alto nelle schede, oggi voglio soltanto far vedere più da vicino questi portainnesti che secondo me sono davvero molto molto interessanti qui in primis abbiamo il citrange carrizzo che come vedete, ora cerco magari di metterlo un po' più in evidenza ecco qua vedete è una planta che è davvero molto molto bella, tende a rimanere sempre abbastanza verde e tende soprattutto anche in inverno vedete a fare questi nuovi getti, appena sente un po' di calore lui parte e non si ferma più, infatti questa pianta era in casa, l'avevo spostata da giù che è abbastanza freddo a qui in camera mia e vedete che appena insomma sente un po' di caldo va subito a creare nuove gemme e a ributtare nuovi rami pianta che riesce comunque anche a sopportare un po' di calcare, infatti io che ho l'acqua molto calcarea come vedete insomma non gli da tanti problemi, vedete che rimane sempre tanto verde e riesce comunque a sopravvivere senza problemi, senza diventare giallo e questa naturalmente è una cosa che va a imprimere anche al nesto che si va a innestare sopra qui invece abbiamo l'arancio amaro, il famosissimo arancio amaro utilizzatissimo in Italia per la coltivazione dell'aranci anche se adesso sta cominciando ad essere sostituito da il carrizzo però ecco diciamo che questo ancora forse il portainnesto più utilizzato nella coltivazione per esempio del limone perché è l'unica combinazione con cui questo portainnesto riesce a sopravvivere al virus della tristezza ecco questo forse è l'unico difetto dell'arancio amaro perché comunque l'arancio amaro è un gran portainnesto perché resiste bene a terreni ostili, non che l'altro non ce la faccia, riesce a resistere anche lui però ecco forse questo è il migliore per terreni argillosi e fa meno fatica di tutti pianta molto vigorosa, pianta su cui probabilmente ci andrò a nestare dei limoni perché appunto insomma è l'unica combinazione con cui questa pianta riesce a sopravvivere se prendesse appunto la tristezza qui invece l'ultimo portainnesto che possiedo, questo è un po' un cirrus trifogliata che come vedete non ha foglie, non perché la pianta stia male assolutamente ma per un fatto di dormienza invernale lui durante l'inverno va in dormienza, fa cadere tutte le foglie ed è per questo che ha una grandissima resistenza al freddo non che gli altri due non ce l'abbiano, anche loro vanno sui meno 15 ma si dice che questo possa arrivare anche sui meno 25 o meno 25 forse secondo me è un po' troppo però sui meno 20 ce la potrebbe anche fare a sopravvivere senza cioè senza vado danni no, però probabilmente riesce a sopravvivere e a ributtare poi in seguito questo è un portainnesto molto interessante perché comunque questa sua dormienza ha un grande vantaggio ovvero che la varietà che si va a nestare sopra anche essa durante l'inverno poi va in riposo vegetativo quindi aiuta molto a gestire diciamo la fase invernale alla varietà sopra che magari è meno resistente al freddo e quindi nestarlo su un portainnesto del genere può aiutare molto specialmente le varietà che ne so di lime che sono molto poco resistenti al freddo se lo si mette su una pianta del genere si ha una maggiore resistenza al freddo e questo è sicuramente un bel vantaggio l'unico problema che a differenza degli altri due è molto molto meno vigoroso infatti è un po' problematica questa cosa perché comunque è molto più faticoso da tra virgolette non gestire perché comunque la pianta cresce lo stesso però diciamo rispetto alle altre due fa un po' più fatica sulla vigoria e per fare una bella pianta ci vuole un po' più tempo comunque dai ragazzi questi erano i miei tre portainnesti cioè sono i miei tre portainnesti di agrumi ve le volevo far vedere un po' più da vicino perché nello scorso video ve l'avevo fatti vedere però ve l'avevo fatti vedere più sull'aspetto teorico che proprio così visivamente quindi ho fatto questo mini video soltanto per farveli vedere un po' più da vicino se avete domande insomma fatemi di sotto nei commenti e noi ragazzi come sempre ci si vede a un prossimo video sempre qui su full stories ciao ragazzi ciao ciao ciao